Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 29 novembre 2021. Misure anti-covid. Nuova ordinanza del ministro della salute fino al 15 dicembre 2021 ha vietato l'ingresso e il transito nel territorio italiano alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Bozvana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia e Svatini. Fanno eccezione i cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data precedente a quella dell'ordinanza 26 novembre 2021 a condizione che non manifestino sintomi da covid-19. Disposta anche l'interdizione del traffico aereo nei paesi indicati. Per maggiori informazioni www.esteri.it. A causa della pandemia da covid-19 l'ingresso in Italia dalla federazione russa è al momento limitato salvo eccezioni ai cittadini italiani UE Schengen e i loro familiari stranieri nonché i titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo ai loro familiari. Lo segnala il Consolato Generale d'Italia San Pietroburgo. Per tutti i voli diretti in Italia, precisa lo stesso Consolato, è necessario presentarsi all'imbarco muniti di referto di test molecolare PCR con tampone per covid-19 negativo effettuato nelle precedenti 72 ore in lingua italiana o inglese. Passenger Locator Form DPLF, questa è la sigla compilato in formato digitale e o cartaceo scaricabile al link www.salute.gov.it. Altra sottolineatura per tutti i viaggiatori provenienti dalla federazione russa, il periodo obbligatorio di isolamento fiduciario presso il domicilio di arrivo in Italia e di dieci giorni con obbligo di informare le autorità sanitarie e regionali all'arrivo e di effettuare un tampone con risultato negativo al termine della quarantena. Per quanto riguarda i cittadini russi, l'ingresso in Italia è consentito solo in presenza di documentate circostanze eccezionali, quali relazione affettiva comprovata e stabile anche senza convivenza con cittadini italiani UE Schengen soggiornanti di lungo periodo al fine di raggiungere l'abitazione, domicilio o residenza del partner in Italia, esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.cons.sanpietroburgo.esteri.it. Il Consolato Generale d'Italia a Londra rende noto che attiva una procedura di assunzione per 20 impiegati a contratto temporaneo, sei mesi eventualmente rinnovabili una sola volta, da adibire ai servizi di assistente amministrativo. I requisiti di base richiesti sono aver compiuto diciottesimo anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 9 ora di Londra del 3 dicembre 2021. Dettagli e avviso completo sono disponibili sul sito www.cons.londra.esteri.it. Ultima notizia e altro avviso di assunzione. Indetta infatti dall'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo presso l'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. La figura selezionata sarà assunta con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi. I requisiti per candidarsi sono aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente. La scadenza per presentare le domande di partecipazione è fissata alle ore 18 del 15 dicembre 2021. Dettagli e avviso completo sono disponibili sul sito www.ambabudabi.esteri.it È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Belonesi Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.